A Firenze la Leopolda con Renzi e a Roma il Teatro Vittoria con Cuperlo. Seguo con attenzione. Mi auguro che quanto prima il PD, tutto il PD tenga a Napoli un'importante iniziativa nazionale sul mezzogiorno. A scriverlo sulla sua pagina Facebook è Antonio Bassolino, candidato alle primarie del centro-sinistra. Non risparmia critica al proprio partito l'ex sindaco di Napoli che aggiunge che se si fosse in condizione di varare una misura di reddito di cittadinanza o dignità sarebbe un bel modo di riportare al centro l'attenzione ai deboli. E' una misura spiegaci ovunque, lo dico a tutta quella sinistra che crede di essere l'ombelico del mondo. Si guardassero intorno perché l'Italia è l'unico paese d'Europa che non ha nulla, conclude. Bassolino è intervenuto alla presentazione del libro italiano I razzisti per bene di Maurizio Alfano. Ascoltiamo l'autore. Si diventa razzisti per bene perché per difesa, ma difendendosi dal nemico sbagliato, si alimentano stereotipi, pregiudizi per cui diventiamo nostro malgrado razzisti per bene o razzisti anche involontari senza accorgerci nei comportamenti, nel linguaggio quotidiano.